ciao ragazzi ma voi sapete come funziona un anticalcare a liquido? nemmeno io sto scherzando venite con me che ora ve lo spiego ciao raga come vi avevo promesso all'inizio del video vi spiegherò come funziona questo calcare anticalcare o meglio pompetta dosatrice per togliere il calcare dall'acqua prima di ogni apparecchio di riscaldamento di acqua calda della lavatrice lavastoviglie e tutti gli apparecchi che scaldano l'acqua che poi anche di uso alimentare quindi se beviamo quest'acqua qui non ci facciamo male cominciamo con il contenuto della confezione questo è un dosatore anticalcare da zero cal praticamente questo quando finisce il liquido che c'è all'interno comincia a suonare e ti fa sapere che il liquido è finito e lo devi riaggiungere ce ne sono di diversi modelli questo è un modello uno che io l'avevo comprato ce l'ho qua in capanone non l'ho ancora venduto vediamo come si lo trovate anche su internet magari vi lascerò il link in descrizione di amazon vediamo completa dosatrice con all'interno una batteria ok questo è un attacco da un pollice questo è il serbatoio dove va messo il liquido che anche quello dovrebbe essere qua c'è un po di liquido te lo forniscono loro ok ricarica per dosatore anticalcare zero cal e anche questi poi si possono trovare a parte come funziona questa pompetta dosatrice di anticalcare e perché è meglio rispetto ai modelli quelli con magnete che funziona con magnete o quelli con con i sali praticamente l'acqua entra da qua fa girare questo fa girare un motorino c'è un motorino neanche delle alette ok ci sono delle alette qua all'interno che fanno girare altri meccanismi meccanici qua all'interno quei meccanismi meccanici prendono il liquido che c'è dentro la boccetta ok questo lo prendono prendono il liquido e lo spingono all'uscita di qua quindi l'acqua entra di qua fa girare qui una delle alette una rotellina prende il liquido e lo fa entrare sul tubo dell'acqua fredda che poi entra dentro la caldaia o sulla lavatrice o su sul boiler perché questo si può installare su tutti gli apparecchi si può installare anche su sui boiler elettrici perché è meglio di degli anticarcare con il sale è meglio perché questo non devi chiudere acqua non devi fare i sali non devi cioè è facilissimo da ricaricare basta che togli questa boccetta così la togli togli il tappo del liquido ok versi il liquido all'interno e lo rimetti non devi fare attenzione a guarnizioni che non perda acqua non non devi assolutamente mettere le mani su quasi niente invece su quelli anticalcari tradizionali ho fatto un video lì lo trovate sui video di questo canale ho fatto video apposta per i anticalcari con i sali sono molto rognosi da fare i sali poi ogni mese mettere le mani da a cambiare i sali dopo un po stanca invece questo tu gli aggiungi il liquido riempi la boccetta e questa boccetta qua dura da due tre mesi e poi anche per cambiare per aggiungere il liquido è facilissimo poi perché dura così tanto dura tanto perché questa rotellina qua gira soltanto quando tu apri l'acqua calda mentre sugli anticalcari coi polifosfati con i sali diciamo che non c'è una cosa come posso dire non c'è un qualcosa che dosa che da il dosaggio giusto o si consumano solo quando tu apri il rubinetto più o meno insomma funzionano però non sappiamo quanto quanto sale quanto i polifosfati sono andati sull'acqua quindi quelli si consumano anche se l'acqua non viene usata invece questi si consuma solo quando apriamo il rubinetto per questo video tutto grazie per la vostra attenzione ci vediamo nel prossimo video ciao